Musica Utilizzeremo questa barca di 12 metri Simbolicamente per poter abbracciare diciamo così l'Italia Partiremo da Sanremo fino a Trieste in 31 tappe 16 con i ragazzi Cercheremo veramente con questo piccolo guscio di vetroresina Di fare un qualcosa che possa comunicare certamente l'autismo Ma anche come determinate persone nella loro semplicità Possono unirsi e arrivare insieme a ottimizzare un obiettivo Musica 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 Da soli siamo riusciti ad arrivare fino a un certo punto Abbiamo bisogno anche di voi Quindi se ci sono sponsor o persone che desiderano ad aiutarci Potrebbero simbolicamente adottare una tappa Adotta 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 una tappa mi raccomando Grazie Musica 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 Musica